Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci qui di nuovo con Formula 1 2023, signori con la nostra sportiveggiante, oggi approdiamo al Gran Premio di Suzuka, si vola in Giappone, tracciato complicato ma altrettanto sportiveggiante dove sì, per carità è difficile superare ma questo ci potrebbe aiutare perché noi di solito veniamo superati spesso e non volentieri, abbiamo appena sfidato il buon Leclerc e naturalmente come succede ogni volta che selezioniamo un rivale ha fatto la poll. Va bene, va bene, ma noi siamo pronti, anzi, anzi, devo dire la verità che non è andata affatto male qui a Suzuka per quanto riguarda sia prove libere che per quanto concerne le qualifiche, mentre stiamo continuando comunque a migliorare quella che è la nostra vettura anche se in modo piuttosto lento, però purtroppo manca proprio la moneta a livello di soldoni per migliorare quelli che sono i reparti che poi di conseguenza andranno a sviluppare le componenti. Quindi procede un po' a rilento i vari power up per quanto riguarda la vettura, però tutto sommato non ci possiamo lamentare, pian pianino un pochino la classifica la stiamo risalendo, mai come Aston Martin che clamorosamente risale la classifica. Nel mentre è arrivata una patch con le livree della, per quanto riguarda il Gran Paio di Monza, reale e... Caricamento delle piste, noto che è più lento ultimamente. Comunque andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza, signori. Mi piace la livree a Ferrari e anche Alfa Romeo, quella di casa. Norris, Russell, Sainz, Perez, Verstappen, Oscar Piastri, il tristo mietitore, Fernandolo. No, no, è ottimo, per quanto poi, per quanto... per l'Alfa Romeo... Bottas, Magnussen... Di casa è un po' Italia, un po' Svizzera, eh, quindi... Le due Alfa Tauri, invece, penalità per entrambe, infatti anche Fittipaldi ne ha approfittato e ha guadagnato due posizioni. Andiamo a vedere la strategia che ci propone, medie e soft. Potremmo anche starci, signori, potremmo anche starci per quello che ci propone la... Il nostro team, anche perché comunque quelli sono gli pneumatici, volendo facciamo l'ultimo stint un po' più sprint. Vediamo, vediamo, signori, vediamo cosa riusciamo a combinare. Voi mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete e commentate, soprattutto commentate che è molto importante ed è sportiveggiante. Quindi fatemi sapere la vostra, come sempre, supportate il nostro team e via con Alcibia del Buzurro e blocchi di partenza. Attenzione, sempre partenza sprint. Per il nostro Alcibiade hanno optato un po' tutti per le medie in partenza, apparentemente. Io ho notato durante il giro di qualifica che rispetto... Vabbè, rispetto il Fantasma è naturalmente quello che fa la Bolle, quindi lascia il tempo che trova. Però mi dava l'idea che la nostra sportiveggiante fosse leggermente sottosterzante. Però devo dire che comunque qui a Suzuka facciamo sempre buone prestazioni. Mo' ci secchiamo da soli, però... Siamo anche abbastanza avanti rispetto alle aspettative dietro di noi. C'è Perez, abbiamo superato in partenza anche la Red Bull di... Uh, Max Verstappen! Attenzione, bandiere gialle al settore 2, ma dalla minimappa sembra non sia accaduto niente. Minimappa che non riesco a spostare più in alto, ragazzi, perché cozza con qualche altra cosa dell'HUD. Ecco, mi ho soddisfatto pure. Ho provato a spostare un po' le altre cose, ma non... Non si incastrano. Perché anche se vedete lì lo spazietto, ma in realtà c'è altro. C'è quello di qualche avviso. Mamma mia che staccatona per Alcibiade. Ci sono un po' di alti e un po' di bassi per quanto riguarda questa carriera. Insomma, ma è normale che sia così, eh. Ci sono alcune piste dove la nostra auto riesce ad andare molto meglio che in altre. Questa è una di quelle dove in realtà andiamo bene, eh. Cioè, calcolando che siamo anche sessi con un'auto che... Non è proprio da... Queste posizioni... Eh, come detto, un po' di sottostezza in alcune curve. Ci frega. Perché è sempre nel momento sbagliato perché vorrei cercare di stare al passo con Sainz in modo tale da poter utilizzare il DRS nel prossimo giro. DRS che tra l'altro ha dato qualche problema durante le prove libere, ma... Fin quando sono le prove libere va bene. Uh, lunga, lunga qui. Ma, eh, però... Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto avanti. Calcolare che lì ho rallentato, quindi non è che ho guadagnato. Per carità ho tagliato la curva, ma... Non ho ne preso la posizione, ne ho guadagnato terreno, quindi non lo so, eh. Un po' di dubbia. Affermazione. Taglio curva. Ci è capitato già due volte, quindi occhio che la prossima è già su penalità, eh. L'ho fatto un lungo alla curva, quella qui, qui sopra, che è andata di larghi, e il taglio alla chicane. Il cordolo c'ha... Mamma mia, come ci ha fregato quel cordolo. Sempre, sempre... Nel momento meno appropriato. Dai, riscendiamo sotto il secondo. Vai con l'ERSA, cannone qua. Non staccare con più calma quella curva, perché sennò rispiamo un altro lungo. Per il momento ci proviamo a far tirare da Carlo Sainz, in modo tale da tenere un po' più dietro... Perez, ma nel misto, come detto, con un po' di sottosterzo, le cose si fanno complicate. Stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Sì, perdo sempre... Sì, perdo sempre... ...fasi... ...vergolosissime. E adesso non è finito. Dai, e buzzi! Hai perso qualche decimo di... Eh, lo so. Lo so. Stiamo... ...faticando. Però, insomma, come detto, siamo pure... In una posizione nel gruppone molto più avanzata di quella che ci si può aspettare da questa auto, ma... Buzzi è così... ...ogni tanto ci fa dei... ...dell'exploit... ...sono indifferenti... Non devo assolutamente perdermi di RS Designs. Lo stiamo faticando, usando quantitativi di Hertz in mani... Ma per il momento... ...con difficoltà, certo, ma... ...lo stiamo tenendo. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Daia, cibiate! Ma viene il misto... ...che fatica, che fatica! Niente, signori. È uscito un gran bel giro di merda. Abbiamo perso... ...una vita. Siamo fatti... ...recuperare da Sainz. Abbiamo perso... ...quello... ...sterratino. Ah! Vai, vai, vai! È a cagare, vai! È stata più veloce di quanto previsto. Pensa tu. Non spingere subito. Cerca di portare le gomme a temperatura. Scusate, Hamilton davanti a noi opta per una strategia... ...un po' strana. ...medie e dure. Bangiera verde. Sì, non è dietro. Abbiamo... ...Max Verstappen. Intanto Alonso... ...fuori dalla gara. Dobbiamo... ...difenderci da... ...Verstappen... ...e vedere un attimo Perez con... ...il pit. Come ce lo ritroviamo? ...però non deve stare né al passo di Verstappen né di... ...e Hamilton lì davanti. Scusatamente a livello di motore. La sportiveggiante spinge. ... ... Ho perso la posizione su Perez. Siamo tra le due Red Bull. La perdo tantissimo a quella... ...maledetta curva prima di sto rettilineo, porca troia. Stavo a nove decimi, sono finito un secondo e due. Recuperiamo qua, ma... ...se non perdessimo la... ...maledetta curva. Ah... ...maledizione. Hamilton è lento. Con le dure, quindi... ...se mi rallento un po' Perez... ...punque se no è qua... ...è il misto... ...mamma mia... ...che fatica... Mi raccomando, lottate lì davanti, eh. Abbiamo carburante a sufficienza per altri cinque giri. Poi perdiamo tantissimo... ...da là. Eh, quella curva proprio non la tiene. Affortunatamente sta qua il... ...controlla il distacco. Quindi abbiamo tempo per recuperare un po'. ...opure l'ultimo settore dice che lo facciamo veloce, ma di certo... ...pensa se non perdessimo... ...quei due, tre decimi là... ...ci aiuta la velocità, no? Vabbè... ...è quel curvone che facciamo a... ...a gallone. Ma non basta. Non basta minimamente. ...e' qua che li abbiamo persi. ...e' qua che li abbiamo persi. ... ...no, quattro e decimi a sta curva sempre li perdiamo. ...quattro addirittura adesso. Niente, ormai li abbiamo persi. Non riesco neanche qua a recuperarli. Porca troia. Eh, mo' si frega pure Max. Eh, vabbè. Porca troia. Eh, no, non ce la facciamo sta al passo di questi. Noi ci siamo pure attraversati da vaffanculo. Siamo seccati da soli. Maledizione. ... Max stava aspettando l'errore che c'è stato di Buzzi. Adesso l'auto non tiene più. Eh, stiamo tenendo un ritmo che è troppo oltre alle nostre possibilità. Adesso Perez si è tolto Hamilton può scappare. Che Hamilton che faceva un po' da tappo. Speriamo che vengono riuscire a tenere dietro un po' Verstappen. anche se noi comunque non riusciamo a stare al passo. Quindi... è una faticata uguale. Però... Certo, oh, per carità, eh. Come detto, siamo... dietro... alle Red Bull. Quindi, onesto che... non ce la facciamo a stare al passo. Però, insomma... quando le vedi qui, ti viene l'acquolina in bocca. la possibilità remota di un colpaccio. Niente, quella curva... non ce la faccio proprio a stare al passo. Eh... guarda là. Il distacco dal tuo compagno di squadra è... 22,8 secondi. Fatica estrema. Hamilton ha preso un po' di spazio su Max. Questo li fa spingere. Vabbè che noi ormai ce li siamo persi. non benissimo la tenuta della nostra... sportiveggiante. Anche se, come detto, è tutto relativo... alla posizione. Adesso si ha recuperato tanto anche Piasco. Vabbè, non è che stiamo spingendo più ormai. non... non... non ci se la fa più. Eh... abbastanza difficile tenerla, quindi inutile... esagerare troppo, che rischiamo solo di andarcene fuori pista. quindi prendi e porta a casa. Quindi prendi e porta a casa. Che comunque l'ottava posizione va benissimo. che lì davanti volavano tutti. Quindi... buono così per Buzzi. Buono così per Buzzi, signori. Fatica, faticascia, ma... va bene, va bene. Ci sta un'ottava posizione a Suzuka. E non... non riuscire a tenere dietro le... le Red... anche perché alla fine solo loro ci hanno superato all'inizio. Stavamo cercando di stare dietro a Sainz. Poi... qualche errorino. Perez... stessa cosa con... Verstappen e... un altro passo. Oggi... ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di massima attenzione, è stata fondamentale per capitalizzare gli errori degli altri piloti. Va a vincere Leclerc, il nostro rivale, come ho detto. Appena mettiamo un rivale qualcuno. Via, vola! ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Seconda posizione per Russell. Terzo, Lando Norris. Va bene così, va bene così, dai. Noi intanto accumuliamo comunque qualche punticino che ci fa comodo, eh. Tutto fa brodo per la nostra sportiveggiante. Carlo Sainz incrementa il suo vantaggio in classifica compiendo un altro passo verso il titolo. Dimmi un po', Davide, chi indicheresti come miglior pilota del giorno? Charles Leclerc ha dimostrato a tutti di avere la stoffa del campione. Ha corso una gara quasi perfetta. Sono rimasto a bocca aperta. Sainz 34 punti di vantaggio su Max Verstappen. E noi dobbiamo tenere dietro Alonso Norris o Conn, insomma. Siamo lì, eh. Siamo lì perché quello poi avanti è Perez che... Cioè il doppio dei nostri punti praticamente, quindi non mi sembra il caso. Comunque la sportiveggiante è quarta, bravissimo. Dobbiamo combattere con Aston Martin McLaren. Alpin sta abbastanza dietro. Alfa Tauri l'unica a zero punti, attenzione. Peccato anche per quell'erro... Cioè per errorini qua e là però sono errorini che comunque era difficile non fare perché eravamo veramente oltre il limite dell'auto. Quindi un po' di contro sterzo per dire quando ci ha superato poi Verstappen lì in ripartenza però lì per dare gas più velocemente possibile. Insomma ci sta anche... Per la difficoltà nel tenere per l'appunto un ritmo del genere. Vediamo se arriva... Ok. Abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Allora, allora. Alettoncino... Ci sta. E' velocizzata, non si può fa' Tocca... Tocca aspettare. Allora, anche qua... Qualcosina è arrivato. Questo non possiamo farlo. Quindi possiamo fare o... Riduzione peso abitacolo, ammortizzatori antisussulto. Ah, e niente. I punti, i punti. Vai. Motore stiamo aspettando. Resistenza aveva fallito questo, tra l'altro. Quanti punti... Eh, non li abbiamo. Vabbè, ci sta. Tanto comunque avevamo preso altra componentistica. Va bene, signori. Noi allora ci vediamo con il prossimo appuntamento per quanto riguarda il nostro buon Alcibia de Buzurro. Si va in Qatar. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ci vediamo alla prossima, signori. Vi raccomando, non mancate. Come sempre lasciate like, condividete e commentate. Seguite anche sull'altro sito per il live, secondo canale, Instagram. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da Quel Taleale. Ciao. 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 Ciao.